Ok ragazzi, allora oggi si cambia location, la riconoscete? La fantastica Golden Campagna, era parecchio che non venivo qua, non avete idea di quante zanzare ci sono E bene, perché sono qua? Perché oggi si fanno delle modifiche alla mia macchina che sta laggiù Non so se si riesce tipo ad intravedere, delle modifiche che sono qualcosa di bellissimo E c'è anche una chicca stupenda alla fine che voglio farvi vedere Ma non vi anticipo niente, vi dico solamente che qui sotto nella descrizione vi metto il link di tutti i prodotti che mostro oggi Voglio invitarvi a lasciare un mi piace sotto questo video se vorreste più video sulla mia auto Magari potrei fare delle video reazioni mentre guido con mia sorella oppure far guidare direttamente lei Oppure video reazioni con mia madre, a me piacerebbe portarli nel canale Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciando un mi piace raggiungiamo i 10.000 mi piace per un prossimo video con la macchina Incrociamo le dita e partiamo con il video Ah beh, prima ovviamente c'è un bel pezzetto di strada che ho fatto per arrivare fino alla campagna che non potevo non mettere Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.